ho preso sta villetta un paio di giorni per rilassarmi ma guardate quanto è bello guardate quanto è bella sta villa a dio santo raga fa paura mamma mia mamma mia ma fa paura ma dio santo bro quando arrivano queste due le cose le dico tanto per lo dico perché sono così veramente grazie al cinese ma dio santo tigre questo è matto raga questo è matto questo è matto e sigaretta con tutte le tigre in più verranno tutte le tigre che mi hanno scritto in dm che sono qua di locarno e verranno qua con me a fare la grigliata l'aperitivo poi arriverà pure qualche dio santo lo sapete già e spruzziamo insieme ok tigre perché non chiacchiero con i miei tigri ci voglio farla però ferocissimo io un po bro chi c'ha l'account raga vi presento la tigre più potente guardate un po impaurita ci tatuiamo tigri c'è questo qui di locale guardate che tatuaggi raga questo questo veramente fa paura bravissimo bella bro grazie guardate ma devo farli in fretta mi ricordo morivo di freddo buon appetito tigre non lo vuoi